Maressal! Dimmi Manuela! E ditemi una cosa, siete contenti per il regalo che vi abbiamo fatto tutta la caserma al vostro compleanno? Veramente sono lusingato, anzi addirittura ti dirò, mi sono anche commosso. Ah, vero. Poi ci sta il tenente, il tenente mi ha regalato questi occiali, io mi rimetto però mi danno un po' di difficoltà perché sono quelli là che si vede da vicino e si vede da lontano, mentre vedo bene, vedo male, vedo bene, vedo male, certe volte, guagliaro mi devi credere, perché il mappino è andanza all'occhio, ah no scusa, era guagliaro, ma per quello che sono rimasto molto contento è stato l'orologio che mi ha regalato mia moglie, guarda Manuela, guarda, bellissimo, è bello, è bello veramente, penso a guagliaro che questo orologio fa uno di tutto, fa con dalle ore, con dei secondi, con dei minuti, tiene il calendario, Manuela addirittura tiene la sveglia, ma mi ha detto mia moglie che con questo orologio tu puoi fare pure la doccia, ma noi non ci credo, io faccio sempre questo e questo e non ci capito l'acqua, non mi ronni esce.